L'ora d'aria, seduta aperta sulle attività trattamentali degli istituti marchigiani. In aula, la musica, la poesia, il teatro dietro le sbarre. Il nuovo welfare via libera la legge quadro sui servizi sociali, oltre 100 milioni di euro a sostegno di famiglie e fasce deboli. Ai nostri microfoni i due relatori, Buzilacchi e Bugaro. Spazio Arte, il puntinismo dell'artista ucraina Polino Ghi inaugura un ciclo di mostri a Palazzo delle Marche. Bentornati all'appuntamento con il WebTG dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Apriamo con l'ora d'aria, la seduta aperta che il Consiglio regionale ha voluto dedicare al mondo penitenziario e alle attività trattamentali. Per la prima volta il carcere è entrato in aula e i detenuti hanno presentato attraverso la musica, la poesia e il teatro i risultati dei laboratori socioculturali frequentati nei sette istituti penitenziari delle Marche. All'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali sono intervenuti il provveditore regionale del DAP, Ilse Rusteni, e l'ombudsman Italo Tanoni. Ai nostri microfoni il coordinatore del progetto, Lorenzo Sabatini, e il presidente, Vittoriano Solazzi. Abbiamo voluto dimostrare al di là dei progetti che fare cultura in carcere può essere veramente una barriera bianca, un qualcosa che rompe gli schemi e permette di sentirsi liberi. Questo è lo scopo del fare cultura in carcere. E sicuramente, come abbiamo chiuso, con le parole di Gaber che dice che la libertà è partecipazione. Senza la partecipazione di tutti, non solo dei professionisti, dei politici e delle istituzioni, ma dei cittadini, tutto questo non sarebbe possibile. La Regione Marche è una regione all'avanguardia quanto a legislazione rispetto alla legge approvata nel 2008 dall'Assemblea Legislativa che stabilisce un rapporto forte con il sistema penitenziario, agevolando anche attraverso risorse che vengono annualmente stanziate per attività di tipo sociale e culturale. Stanzia oltre 100 milioni di euro e propone un welfare associato per aiutare famiglie e categorie disagiate. È la legge regionale sul sistema integrato dei servizi sociali che questa settimana è stata varata dal Consiglio regionale. La legge quadro sul welfare, approvata a larga maggioranza, con 21 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti, punta sull'integrazione sociosanitaria, la gestione associata dei servizi tra i comuni e i livelli essenziali delle prestazioni. Vengono istituiti il fondo per le politiche sociali e quello per la non autosufficienza. Ai nostri microfoni due relatori della proposta di legge, Gianluca Busilacchi, Partito Democratico e Giacomo Bugaro, Forza Italia. In tutto la legge è significativamente finanziata, oltre 110 milioni di euro, quasi 120, insomma ci sono molte risorse. Altri aspetti sono la previsione di livelli essenziali delle prestazioni, facciamo anche riferimento alla necessità di un diritto ad un reddito minimo per gli abitanti marchigiani. E infine c'è un aspetto forse il più importante che è quello della obbligatorietà della gestione associata. Già dal 31-12 i comuni sotto i 5.000 abitanti per legge nazionale dovranno gestire in modo associato i propri servizi pubblici, nel sociale sarà nelle marche obbligatorio anche sopra i 5.000 abitanti. Noi abbiamo votato a favore di una legge che va ad accogliere le tante criticità e problematicità delle fragilità che oggi contraddistinguono la nostra società. Detto questo, un emendamento che mi ha fatto particolarmente piacere, non solo perché l'ho presentato io, ma perché è importante, è quello sulle famiglie numerose. Noi sappiamo che in momenti di crisi come questo lo strumento della famiglia, l'istituto della famiglia deve essere particolarmente al centro delle politiche sociali e questo sulle famiglie numerose penso che vada incontro a tante problematiche di tanti nostri cittadini. Palazzo delle Marche si trasforma in spazio espositivo e propone un ciclo di mostre per far conoscere i nuovi talenti artistici della regione. La rassegna espositiva è stata aperta questa settimana dall'artista Polino Ghi, nata in Ucraina e da alcuni anni residenti a Pesaro. La mostra, inaugurata dal presidente Solazzi, è aperta fino al 1 dicembre e propone una serie di opere ispirate al pontinismo francese, ma anche al linguaggio tecnologico dei pixel. La prossima personale sarà dedicata all'artista Bruno Radicioni. Bene, tutto per questa edizione del nostro spazio informativo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.